Venerdì 24 maggio, il giorno dedicato alla memoria liturgica della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, venerata con grande devozione nel santuario di Sheshan a Shanghai. Invito tutti i catolici del mondo a unirsi in preghiera con i fratelli e le sorelle che sono in Cina, per implorare da Dio la grazia di annunciare con humiltà e con gioia Cristo morto. Il giorno 24 maggio è il giorno dedicato alla memoria liturgica della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, venerata con grande devozione nel santuario di Sheshan a Shanghai. Invito a tutti i catolici del mondo a unirsi in orazione con i fratelli e le sorelle che sono in Cina, per implorare da Dio la grazia di annunciare con humiltà e alegria a Cristo morto e resucitato, essere fieli a sua Iglesia e al sucesor di Pedro e vivere la quotidianità nel servizio a suo paese e a sus conciudadanos di modo coerente con la fe che professano. Hacendo nostri alcuni parole della orazione a la Virgen di Sheshan, vorrei invocare con voi a Maria, aiuto a Maria, aiuto a chi. Nuestra Signora di Sheshan sostiene il empeo di quanti in Cina, tra le fatigazioni quotidiane, seguendo credendo, sperando e amando, a fin di che mai teme a parlare di Gesù al mondo e del mondo a Gesù. Che Maria, a Virgen fiel, sostenga a los catolici chinos, haga sus no facili esmpeños cada vez più preciosi a los ojos del Signore e haga crecer il afecto e la participazione della Iglesia che sta in Cina nel cammino della Iglesia universal.